Vai? Vado qua eh Ok Nooo Non mi hai visto? Ma dove va? Cioè guarda quanto sono lontano Vabbè, Ferrello vedi che cosa ho in mano? Eh, che cos'è Stef? Ma è un cellulare? Sì, è un cellulare Me l'ha dato Eni, dovresti averne anche tu uno nell'inventario Ah sì, ne ho uno pure Bellissimo, è bellissimo questa roba E mi ha detto che lui da ora in poi comunicherà con noi con questo telefono Ah, ok Cioè penso proprio che ci manderà i messaggini mentre noi facciamo le mappe I massaggi? Ferre lo sai che mi incarto sempre, non mi rompere le scatole È un momento figo secondo me Però era bello, ci mandi i massaggi Sì, ma sai che bello poter giocare a Minecraft mentre ricevi i messaggini In realtà è una tortura Già mi arrivano nella vita reale e ci mancano pure qua in gioco Però almeno sono Eni quindi ci può stare Già noi rispondiamo nella vita reale i messaggi Esatto, 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 esatto In ogni caso, allora a parte quello sfondo che lascia di perdere perché davvero Ah, non l'avevo visto, vediamo anche il mio è così Ciao Nat, è sempre bello vederti Mi dispiace, è colpa di Eni Non è colpa nostra, l'ha impostato Eni quindi arrabbiati con lui, chiaro? Nat Mucca Comunque qua nei messaggi ci dovrebbe aver scritto qualcosa Eni Allora non è questo, ci sono diversi messaggi perché non cancello la cronologia Capito? Ah, ok, ho capito Comunque, ciao ragazzi, da ora in poi comunicherò con voi con questo telefono Oggi avrete a che fare con un signore che vende picconi davvero unici nel mondo di Minecraft Vi consiglio di provarli tutti, sono un po' costosi alcuni ma ne vale la pena Ok Ok Picconi, quindi picconi particolari Io lo so perché nella vita mi dovrebbe interessare provare dei picconi Aspetta che cancello tutti i messaggi Ok, così tengo in ordine per una volta Poi se non arrivano gli altri mi confondo Comunque, i picconi sono interessanti I picconi sono una roba utile su Minecraft Cioè, giochiamo sempre a minare, a prendere minerali Ma sai com'è, per sorprenderti devono essere davvero davvero fighi Lo so Perché altrimenti sono solo dei picconi Ma una come lei, che vuole sempre diamanti, dovrebbe essere interessata Le picconi migliori per arrivare prima i diamanti Vedremo come saranno Per ora sono abbastanza È molto scettica Eh sì È molto scettica la signorina Sai com'è, i picconi ne abbiamo provati noi tanti Ma sono carini, ma di solito non è che fanno chissà che cosa Quindi vedremo Parliamoci e stiamo a vedere Ciao siete i two players su One Qualcosa? No, a casa mia siamo i two players su One Console Però Grazie Grazie, eh E vabbè, se vuoi No, vabbè Mi ha detto un certo animo su una cosa del genere Che dovete acquistare questi picconi unici Sì Quindi lasciamo per adesso, dimenticate il nome E andiamo avanti Ok, allora a livello estetico sono già fighi Ok Bisogna metterlo E alla destra abbiamo l'equipaggiamento che ci lascia Eini Sì, quello è il tuo zenetto per oggi Allora, perché ovviamente i minatori veri hanno anche lo zenetto in spalla Hanno lo zenetto ovviamente abbinato Ok, io prendo questo Io prendo questo Steph, guardami Sto prendendo tutto l'equipaggiamento Mi lasci in pace Ma non dovresti mettertelo in spalla? No, si apre e basta Ah Si, 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 tieni in mano sto zen, ok? Va bene, va bene Non rompere È carino lo stesso, è a tracolla Comunque Steph Sì Allora, tieni perché io non capisco bene come si usa ancora Ok Spesso mi sia arrivato un messaggio Ok Perché ho visto qualcosina di strano Non lo so Hai preso il piccone? No Scusa Devi prendere anche il piccone, scusami Allora, fammi vedere un pochettino Ma nei due messaggi Ah, ok Aspetta Non so bene come si usa ancora Ok Ok, ok Ah, sì, è vero Ti ho mandato un altro che scrive Questa non zecca ha neanche un nome E va bene Ci hai portato tutto da lui Quindi è un po' colpa tua C'hai amici strani Quindi Lo so anche Non è dato fastidio Però è colpa tua Preso il piccone? Sì Hai visto che cos'è? Sì, è un'auguria Esatto Ok E praticamente Non promette niente di buono Il nostro obiettivo è ottenere i materiali da questo piccone per comprarne altri Che c'è? Come hai fatto a metterti lo zainetto? Oh, che bellino che sono Come posso? Io non riesco a Se l'ho nella barra Cioè mi vedi con lo zainetto? Perché? Non tenerlo in mano? Esatto Ah, ah Eh, scusa, eh Allora sì che è un bello zainetto Andiamo, cara Dai Allora sì che sono pronto ad andare a minare con lo zainetto strafession Sei troppo bellino Stai prima allenatore di poker E anche tu Pronto, Calle Quindi Ricapitolando Eni ci ha lasciato questo tizio Dobbiamo procurarci tre di pietra Ok, col piccone anguria Per ottenere il piccone successivo E devo dire che sto piccone anguria fa totalmente schifo Ma poi c'è lanci pezzi di anguria Mentre Davvero? Guardami, guardami Sei pronto? Aspetta Ma è diventato velocissimo Vai Perché è velocissimo? Ma non è velocissimo Ci stai mettendo una vita Io ti vedevo lentissimo a te A minare lentissimo Aspetta, forse ho capito Ogni volta che tu finisci di picconare Mangi un'anguria E quindi se avessi fame Ti sfamerebbe il polluccino Ok, quindi non senti me la fatica Mentre mini Esatto È abbastanza utile Dai, non è male Non è male Non è male Soprattutto per essere quello gratis Allora, cosa dovevo prendere 3 di pietra Io ce li ho Allora, grazie Blah, 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 blah Blah, blah, blah Ci dà il double pickaxe Che comunque a livello estetico sembra di diamante Poi non penso lo sia Però dice double 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 pickaxe Potrebbe Secondo me Cosa chiede per quello dopo? 48, sì 48 48 di pietra Eh vabbè Allora evidentemente sto piccone è forte Poi agli altri Al resto ci pensiamo dopo No, Fere Guarda Fai così E ne prendi due invece che uno Oh dai Per quello è double Allora è semplice Certo Allora io vado qua Facciamo due direzioni diverse Ok Sì, anche perché ci serve un sacco di roccia Anche se io penso di iniziare ad andare Vediamo se funziona anche verso il basso Eh no Ho già trovato il punto debole Funziona solo verso un lato Ok Ok Questo è già il suo punto debole Allora Comunque se lo fai È un buon piccone ma non così tanto L'ho fatto di lato e mi ha fatto tipo 4 blocchi alla volta Non lo so Dipende forse da quanto Perché? Da quanto spazio ha? Guarda qua me ne fa 4 Ma solo a te Sì Me ne fa 4 Se vado di lato però Vabbè Dritto me ne faceva due Fere trova altre utilità che si piccoli Infatti ne ho già 42 Steph Pensate 42 ne servivano a 48? Sì E sono arrivata adesso a 48 Eh Ah no io sto prendendo anche dell'andesite Perché qua sotto c'è andesite Cavolo Allora non mi serve a molto andare qua in profondità Stavo preparando Sì vado al prossimo Ciao Va bene Dai Steph Allora usalo e piccola Amber Pcakes Vado? Hai capito? No Sono tipo andato in avanti Esatto Ti trasporta in avanti e distrugge quei blocchi Cioè faccio così? No vabbè Ma cioè diventi una talpa così Esatto Beh è tutto per rendere veloce il minare Figata Una roba del genere non l'avevo mai vista in effetti Vorrei andare verso il basso ma verso il basso Che spettacolo I picconi non funzionano Allora quanto chiedeva invece di pietra cara? Eh 32 32 Ma io non sono neanche arrivata vicino al carbone Tu dove l'hai trovato? Fuori? Fuori Ah Già Maledetto L'avevo già visto prima e non ti ho detto nulla Dato che tu sei potuto andare avanti da sola Allora non ti ho avvisato Così ti recupero E anzi Cara mia ti ho pure superato Quindi vado al piccone successivo Ma dai si è cattivissimo TNTPKX Eh vabbè Questo ci farà esplodere tutto Eccolo qua Eccolo qua Questo non va bene raga Allora Ho già capito cosa fa Quindi facciamo che vado già qui sotto Così non faccio troppi danni Ci mettiamo una bella torcia qui E vediamo quanti danni fa Però è bello Se fa esplodere tanto È utile per andare verso il basso eh Ok Fa esplodere bene Allora mi manca un pochettino di pietra Che ti succede Stef Un po' schifo Ah Ah no Ok si sta potenziando Sembra che quando picconano verso il basso Non funzionano molto bene Ok Quando inizi a picconare nella direzione giusta Diventano devastanti Sì esatto 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 Ok Interessantissimo Ok vado a prendere il prossimo Eh mi dici poi cosa serviva dopo quello TNT grazie Adesso te lo dico Perché non mi ricordo proprio Adesso te lo dico Sto facendo dei disastri enormi Guardate qua Ok Allora prossimo TNT Ahà Eh Allora cosa serve 128 di cobblestone Cosa E ci dà il piccone di Giada 128 Ed è di Giada Ok Ti ho detto di Giada Il prossimo è di Saffiro E chiede 12 iron ore E ne ho solo 4 E 12 di carbone E ne ho solo 5 Però Vediamo cosa fa Picconiamo dritto per dritto Ah Allora sì guarda Sono già quasi a due stack Cioè non c'è proprio Cioè non c'è proprio paragone Che succede? Per ora questo non fa nulla No 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 aiuto Aiuto ero al buio Aspetta Mi stavo incastrando Aspetta Che succede? Praticamente Sembra che più tengo E più va veloce Dai davvero? È una roba stranissima Oh mio Dio Guarda il mio piccone Sono una trivella Guarda qui Ma è una figata pazzesca Sì Ti è riprimuto E mi diventa veloce Non so se c'è un limite Ma è diventato velocissimo Vabbè no ci sta Perché così Ma qua hai bucato tutto Stef all'ingresso Devi stare attento Ho fatto un casino ormai Certo che hai fatto un casino Ho perso il controllo Della trivella Allora Salve il prossimo piccone Guardate E poi rimane veloce Quindi non passa l'effetto Cioè rimane così Allora 12 di ferro 12 di carbone Oh cavolo Io non ne ho mai trovato ferro Io una sola volta Carbone invece ne ho 11 Ne servono 12 Proprio No cavolo Io ferro non ne ho trovato Sfiga sfiga portami via Allora Io però ho trovato un dungeon Quindi sto pensando di andare Nel dungeon a cercare del ferro Perché di solito È la cosa più comoda Da fare in questi casi Voglio venire anche io Allora raggiungimi Opla Buongiorno Sennò qua non la finiamo più Mob Tutto a posto? Ok come pensavo Ho trovato un sacco di ferro Che sei Perfetto Pef Allora ferro Uno Due Anche qui sotto Vabbè ma quanto hai scavato in basso? Tre È perché ho dato la TNT per un po' Ti ho detto io stavo già coltivando per il futuro Ti ho detto che sarebbe stata la strategia migliore Ciao Ferre Eh lo so ma non funziona Aspetta che mettiamo un po' di luce qua Che magari mi sposto Opla Uuh ecco qui c'è il ferro Opla Opla Guardate quanto diventa veloce a un certo punto Ta 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 Bellissimo No all'inizio è lentissimo Sì all'inizio è più lento di un piccone di legna Noiosissimo Poi diventa più veloce di quello di diamante È una roba stranissima Ho trovato anche del carbone se poi ti serve Tanto a me ne serve soltanto uno cara Ok Opla, ok, quindi lentissimo come sempre 12 e 17, ti posso dare anche 5 di ferro Dato che oggi non è comunque una sfida tra me e te Posso diciamo essere abbastanza collaborativo Dove sei cara? Qui, io ne ho 6 di ferro al momento E 2 di carbone Te ne posso dare 5 Il carbone sta verso dove ho illuminato poi Però, da dove si risale? Da qua Ce ne mancano soltanto 3 Ah ok Soltanto tra virgolette Sono a quello di safiro Ok Però il prossimo ci costa 6 diamanti E quello dopo ancora 20 diamanti Ma non ne avevo neanche trovati i diamanti Comunque sono molto rari Ok, qui c'è dell'altro ferro È quello che mi preoccupa Allora, raga, vediamo un pochettino Ok, ho trovato tutto il ferro, alleluia Che ti succede? Guarda il mio schermo Pronta? Beh, ma è bellissima sta roba Questo direi che è il più forte Questo è il più bello poi Questo è il più forte No, ora sì che ha senso Ah, dove si risale? Mi sto perdendo, Steph Spettacolo, spettacolo, spettacolo Help me Eh, non lo so dove sei, cara C'è la risalita da qui Allora, sono risalita da quel buco in cui mi ha fatto scendere Il problema è che non trovo Eh, qua, dove sono io Ok Ah, da qui su? Sì, devi salire lì Ok Ok Hai fatto un percorso un po' strano Lo so che è tutto strano Io sono tutto strano È un modo Lo sai come funziona Però Mi servono tantissimi materiali Eh, eh, tu devi salire Che noia Ecco, di cos'è, ok Cioè, anche perché Roba rara Vabbè Facendo così Credo Che non avremo grossi problemi A trovare qualcosa di raro, no? Questo è tutto quello Che siamo riusciti a prendere Alla fine, ragazzi, mi hai messo in sotto Entrambi con quello Abbiamo fatto la trivella Abbiamo distrutto tutto il mondo sotto Però ci dovremmo poter permettere sia il penultimo Sia l'ultimo piccone Il rubino E l'ender pkx Io sono andata giù fino alla bedrock Ho poi trovato la lava Che ho visto che si può distruggere anche la bedrock E poi sono indistruttibili questi picconi Allora in pratica Non è che puoi distruggere la bedrock Perché se scavi verso il basso non te la fa distruggere Ma se ti capita di fronte Distrugge anche quella E poi si sono indistruttibili Rubino ovvero il penultimo Sì ciao Steph No aspetta aspetta torna indietro Dammelo perché ti devo far vedere l'effetto Cioè visto da fuori è stata qualcosa di fantastico Ma ho fatto una galleria Cioè dammi Ho fatto una cavolo di galleria raga Pronto? Vai? Vado qua eh Ok No Mi hai visto? Ma dove va? Cioè guarda quanto sono lontano Vabbè Vabbè Allora non riesco a immaginare cosa sia l'ultimo Vado? No Vabbè 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 Questo funziona anche verso il basso però E finalmente Cioè questo va più veloce Nel distruggere il blocco in creativo Sì vabbè Potentissimo E vabbè Li valeva tutti quei Tutti quei diamanti Dai Sei morto Saffoccato da qualche pausa Sei caduto Che ti succede? Ho fatto un tunnel talmente alto Vabbè 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 Tieni Oh mio dio Che bello Questo sì che è una figata Cioè questo è il piccone che vale la pena da avere Vediamo Ma a me piace più l'altro Devo essere sincero Perché è troppo divertente Vabbè Bellissimo Figo vero? Sì Bellissimo Davvero 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 belli In ogni caso ragazzi Ci fermiamo così Ringraziamo Eni per averci fatto conoscere il suo amichetto tutto strano Che è pieno di picconi bellissimi Amico i tuoi picconi sono davvero belli Ti perdoniamo se non ti sei ricordato Tu so quanti pazzi qua Però i picconi sono belli Il console Deci prendere su un console Però va bene Non importa in ogni caso Ci fermiamo così Qua sotto Comunque i nostri video Iscriviti al canale Campanellina Ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao